Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch Puni Puni Ragazzi, che vi devo dire, c'è il nuovo evento con Attack on Titan Ma cosa si può volere di più in questo momento tra Yo-Kai Watch e Attack on Titan? È perfetto! È perfetto! Mamma mia, guarda qua è primo livello, sì, c'è trasportati nel mondo di Attack on Titan, che bello Guarda qua il Wall Maria Ma sbaglio o quello è Emma e questo è Whisper Come primo regalo di questo evento, con i timbri, riceviamo Eren Beh, è ovvio, non poteva essere altrimenti Rango S, vabbè, sì, rango standard, diciamo Potrebbe essere utile ai fini dell'evento, eh? Che tra l'altro non so che evento è, evento Fionda? Beh, beh, beh Oh no, non è rilascia e tira, vero? No, è Mira E, Strucia Questi sono impossibili Ora ci provo Uso la scatola del tè Dove tengo i filtri del tè Vediamo un po' Funziona, funziona, ok Sì, storto alla fine, però ce l'ho fatta Direi di andare a fare qualche slottata Che è la cosa più interessante per ora Avrai anche quattro monete Niambo Utilizziamole Potrebbe uscire qualcosa di davvero bello Beh, direi di sì Ah, ok Ok, Kyra Doppio S Beh, qua tutte quante, insomma Ok Peros Ah, ok Mentre questo chi è? Ah, ok Andiamo a fare qualche slottata, va Qualche multi-summon Su Shingeki no Kyojin Bellissimo Oh, quasi sono impegnati, eh Tranne con questa multi che è un po' Sembra un po' Beh Ah, no Il gigante mascella A sti cavoli Aspetta, aspetta Ecco Porco Cioè, è il nome del personaggio, porco, eh Sia chiaro Sia chiaro Mi aiuta contro il gigante carro Nel livello normale Sì Perfetto Buono Oh, almeno niente non è Ma qua Mi sa che cinque slottate ce le butto Se non trovo tutto quello che mi interessa, eh C'è anche Mikasa qui Anche se Mikasa è un personaggio che odio, sinceramente Non mi sta sulle palle, ragazzi Non ci posso fare niente Armin Oh, attenzione C'è Gian WS Armin Questo potrebbe dare un semplice supporto Nei livelli del Della mappa Kaksei Gian Kaksei Gian c'è Eccolo Che fa danno contro il gigante carro Bene Però trovo strano che il gigante mascella Sia contro il titano carro Allora Il Z Qual è lo Z Titano bestia Rainer Titano corazzato Mikasa Oh Anche Eren Che è il doppio Z Abbiamo un'altra doppia Z Che è Armin E il tripla Z Che è Levi E si può trovare effettivamente Nella slot Ok Titano corazzato Che è Rainer Perfetto Ma questo Orkanos Ma questo No Orkanos Coros Scusatemi Tra l'altro Orkanos è inglese Awoken Kayoni Mai trovato Strano Vediamo un po' Vediamo se magari trovo qualcosa Chissà 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 Mikasa Rango S E c'è anche Angie Comunque Andiamo avanti Con un'altra Slottata Vediamo se trovo un altro Rango Z Magari Che non sia Rainer Però Tra l'altro Rainer che fa Contro Ah contro Zeke Titano bestia Ok Cavolo È buono È buonissimo No buono Buonissimo Tra l'altro Oh Dandory Cioè sto trovando Ogni slot Ogni multi E trovo qualcuno Dell'evento Ah però questa Non mi piace molto Ovviamente come ho parlato Finita Dai Vediamo un po' qui Vorrei provare a farne un'altra Per trovare un altro Rango Z O superiore Oh Kakseyanji Vediamo un po' che fa lei Ecco risvegliata Contro il titano carro Vabbè a sto punto ragazzi O gigante carro Un altro Gian doppia S Mamma mia ragazzi Vabbè a sto punto Oh Segreti dell'anima G Oh Shishikoma Shadow Side Coma Sun Forse Forse Non era Coma Sun Shadow Side No Comunque se dopo Andiamo a vedere Capo io vorrei proprio Trovare un altro Rango Z Magari O superiore Comunque Vabbè dai Mi accontento di Ryan Nel rango Z Dai Che devo fa' Ok Va bene E' andata così Non è affatto male Ma proprio per niente male Peccato perché volevo trovare Levi Ma aspettiamo Farò qualche altra Slottata Magari Quando si potrà trovare Con più facilità Che ne so Levi per esempio E comunque si è Levi e non Levi Perlomeno Come è scritto qui Ri Bu Ai Quindi Ri Bu Ai Se proprio vogliamo essere Precisi E si trova fino al 7 Ma Possibilità più alte Di trovarlo Massimo 2 Massimo Massimo altre 2 Se lo trovo Bene Se non lo trovo Niente Massimo 2 Va bene 3 Ne ho fatte 3 Poi questa Niente Proprio niente Non vuole venire niente Quando non è Non è In ogni modo Di come sempre Vi ringrazio Per aver seguito il video In descrizione Link per Instagram E Telegram E noi Ovviamente Ci vediamo Alla prossima Bye bye